Ciao a tutti, io sono Melvin ed oggi vi porterò la video recensione di un prodotto entry level quindi diciamo un prodotto economicissimo del mercato smartphone vi parlerò di Doggy X20 un prodotto che come potete vedere è piccolino, 5 pollici, costruzione mediamente buona un prezzo di 68€, l'ha comprato Silvia per una questione puramente di convenienza ve la porto io perché comunque avete visto che Silvia si sta impegnando ovviamente su diversi videogiochi inoltre io vi dico comunque che anche su un'altra piattaforma di streaming molto nota giornalmente porta contenuti, seguitela perché ovviamente lei ci sta mettendo il suo prima di tutto vi parlo della confezione di vendita che è questa qui davvero di buon livello all'interno troveremo oltre allo smartphone anche questa coverina in plastica rigida che va a ricordare quella che avevo provato su Honor 8 con incastro che si va quindi a diciamo agganciare sui diversi spigoli del dispositivo un po' di manualistica che ovviamente diciamo viene ad essere ricompresa nella confezione ma che non servirà molto ovviamente anche la garanzia abbiamo questo caricatore da parete 5V 1A che ricarica la batteria da 2580 mAh in poco più di due ore compresa europea il cavetto che è di tipo USB A micro USB che ovviamente diciamo è di buona fattura niente di particolare da dover segnalare il dispositivo è questo qui ha all'interno delle caratteristiche tecniche di fascia bassa 2 GB di memoria RAM 16 GB di memoria interna un processore Mediatek MT6580 quad core a 1,3 GHz batteria che vi stavo dicendo precedentemente da 2580 mAh un Wi-Fi che aggancia molto bene il segnale soprattutto sulla frequenza da 2,4 GHz connettività 4G che ovviamente non manca con una buona ricezione un dispositivo che comunque ha qualcosa da dare anche grazie alla fotocamera posteriore da 5 megapixel e da 2 megapixel posta qui incorniciata con questo anello argentato flash led il tutto qua è condito ovviamente dalla presenza di tanta plastica nella parte posteriore è da un vetro che se vogliamo definirlo così in realtà penso sia semplicemente della plastica che comunque va a ricoprire per l'appunto la superficie del display di buona fattura vi arriverà fra le mani con una pellicola già preapplicata il che ovviamente fa piacere soprattutto perché non dovrete andare incontro a micrografi oppure a segnacci capsule auricolare fotocamera anteriore da 5 megapixel con sensori di luminosità e di prossimità che funzionano anche abbastanza bene luminosità dello schermo che mi ha convinto lo schermo da 5 pollici 1280x720 punti tecnologia IPS LCD soffre un po' gli angoli di visione il nostro dito non sarà proprio a contatto con il display quindi non è un display a laminazione completa infine il tasto per andare nella home che si può cliccare al suo interno non è ricompreso nessun sensore per il riconoscimento dell'impronta digitale ci sono due tasti che sono quello indietro e quello multitasking oppure menu che non sono segnalati quindi non ci sarà una retroilluminazione ma che comunque funzionano e sono posti per l'appunto al di fuori del display display che mi ha convinto riesce a riprodurre abbastanza bene diversi colori su youtube si può avere anche una bella esperienza peccato che nella parte posteriore qui in basso venga ad essere installato l'altoparlante di sistema quindi quello principale la qualità è davvero molto bassa i bassi non esistono c'è anche molto eco questo è un prodotto che mi stavo dimenticando di dirvi è dual sim dual standby possiamo andare ad installare le due sim oppure la micro sd togliendo quindi diciamo come si faceva un po' di tempo fa direttamente la back cover abbiamo per l'appunto due sim ed una micro sd vado a rinfilare tutto quanto dal punto di vista multimediale non c'è molto da dire ovviamente i risultati sono di basso livello sia durante il giorno sia quindi con scatti notturni con le macro qualcosa si riesce a fare il core quindi diciamo la funzione principale dovrebbe essere quella di maggiorazione della profondità di campo che però ovviamente su 68 euro non si può definire tale semplicemente sembra un filtro applicato insomma la instagram ovviamente la fotocamera anteriore del resto non riuscirà a fare degli scatti sufficienti un peccato però ovviamente dal punto di vista multimediale bisognava fare necessariamente in questa fascia di prezzo un distinguo da altri prodotti che si trovano già sui 100-120 euro un prodotto che dal punto di vista energetico mi è stato dietro all'incirca 3-4 ore di schermo sempre acceso se lo utilizzerete mediamente raggiungerete le 20-21 di sera io che ovviamente utilizzo in modo forsennato il mio cellulare sebbene comunque me lo sia fatto prestare per darvi queste impressioni raggiungo più o meno le 4 del pomeriggio certo c'è la possibilità di poter acquistare una seconda batteria che quindi potete andare ad intercambiare quindi ne finite una smontate tutto e mettete direttamente la seconda batteria soltanto che è un tipo di utilizzo che si faceva qualche anno fa e io sinceramente preferisco avere magari quei 3500-4000 mAh e stare a posto tutta quanta la giornata ovviamente l'assenza di una ricarica veloce se doveste finire per l'appunto tutta quanta la batteria prima di sera potrebbe essere un problema questo sì dal punto di vista ovviamente della multimedialità non può fare moltissimo perché comunque la piattaforma hardware è quello che è comunque io lo consiglio perché con 68 euro vi portate a casa qualcosa di abbastanza interessante e potrete anche magari andarlo a regalare al fidanzato o la fidanzata che non si intende di cellulare oppure semplicemente non ha bisogno di tantissime funzionalità oppure alla mamma o al papà che vogliono entrare nel mondo degli smartphone e hanno bisogno semplicemente di una spintarella e non vogliono magari andare ad acquistare prodotti da 200-250 euro Dougie X20 lo consiglio per prezzo, per ergonomia guardate come sta bene in mano e alla fin dei conti perché funziona davvero molto bene durante tutte quante le giornate che andrà ad affrontare insieme a voi guardate come sta bene guardate come sta bene Grazie a tutti.